I lavori per la messa in sicurezza della miniera di Olmedo non sono finiti, eppure la convenzione con i Giasca del 31 dicembre, lasciando le opere a metà, i lavoratori a casa e il sito del tutto incustodito. E' quanto sottolinea una nota la Filtem CGL regionale che definisce la situazione inaccettabile e inspiegabile e che rivendica la proroga dalla convenzione, indispensabile a ragionare sul futuro della miniera, in vista di un eventuale nuovo bando nel 2019 oppure di un piano per gestire la chiusura in sicurezza. L'assenza della proroga negata dagli uffici delle attività estrative ha indignato il sindacato che chiede ora un intervento dall'assessora all'industria Maria Grazia Piras affinché risolve in tempi stretti questa fase di stallo. Uffici tecnici e burocrazia rischiano di vanificare il percorso virtuoso portato avanti sin qui dall'assessorato all'industria in accordo con i sindacati, sottolinea il segretario regionale della Filtem CGL Francesco Grau. Chiediamo quindi alla regione un intervento immediato per concedere la proroga e avviare al più presto un confronto sui percorsi da affrontare in futuro. Sulla miniera era stato definito infatti un percorso che affidava ai G ai lavori di messa in sicurezza e presidio in attesa dei bandi previsti per la concessione, ai quali purtroppo per ora non si è presentata alcuna società. Da maggio 17 dei 25 lavoratori hanno superato la selezione per essere assunti a tempo determinato fino al 31 dicembre, una data che può e deve essere prorogata, rilevata il segretario Grau, prima di tutto per completare l'esecuzione dei lavori in corso e garantire il presidio e la sicurezza della miniera, poi come fase transitoria nella quale discutere con serenità del futuro. La finanziaria 2019 è infatti destinata alla miniera di Olmedo un milione all'anno per i prossimi tre, conclude il segretario della Filtem CGL, quindi è evidente che ci sono i margini per discutere di come pianificare il futuro e perciò appare ancora più inaccettabile che non sia stata accordata la proroga della concessione.